Quando io andavo a scuola mi lamentavo spesso con mia madre perché quando ci veniva assegnato un romanzo da leggere tutti avevano il libro nuovo e io invece avevo il libro ingiallito, quello vecchio, sfigato, proprio brutto. All'inizio ci ho messo anni, perché ero bambino, a capire che in realtà quel libro ingiallito presso da una libreria piena rappresentava il mio vantaggio, il mio vantaggio sugli altri e nessuno se ne è occupato perché io avevo la possibilità di sciogliere un dubbio, di soddisfare una curiosità e il 99% delle persone semplicemente non può competere e noi abbiamo voluto raccontare l'1% e noi invece a quel 99% lo abbiamo umiliato come un burioni qualsiasi che si diverte a bulleggiare chi invece ha con le proprie parole espresso semplicemente un dubbio non ci rendiamo neanche conto che abbiamo elevato a scienza assoluta a quelle che sono scelte politiche, di solito di destra.